Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Phil Rugby che vi parla. Ragazzi, ragazzi, questo weekend ci sarà un doppio videovlog. Restate connessi perché ci sarà un doppio videovlog. Sabato, all'Anfranche di Parma, le Zebre affronteranno gli Stormers, i campioni uscenti della URC e sarò lì per fare i videovlog. Il giorno dopo, domenica 9 ottobre, allo stadio Munigo di Treviso arriveranno i Dragons, arriveranno i Gallesi che quest'anno i Dragons non sono come quelli dell'anno scorso, ragazzi, li vedo più in forma. Quindi, sabato videovlog di Zebre e Stormers e domenica videovlog di Benetton Dragons. Le Zebre e Stormers, i videovlog, penso che lo caricherò, penso che uscirà domenica, domenica pomeriggio, mentre quello di Dragons e Benetton, penso che lo caricherò su YouTube lunedì pomeriggio. Ragazzi, restate connessi, quindi doppio videovlog questo weekend. Per oggi è tutto ragazzi, alla prossima.